e buonasera a tutti da Piertosi questa è la mia prima volta in voce qui allo studio allo stand cinquanta due della festa dell'unità e non manca molto all'inizio del concerto di Africa United abbiamo qui bunna ospite oltretutto pochissimi giorni fa ci siamo incontrati al San special hai detto no un'altra intervista con Piertosi invece adesso ce ne no no assolutamente assolutamente poi alla fine ci conosciamo da così tanto tempo che insomma poi alla fine a Bologna insomma sei il punto di riferimento quindi tra l'altro partirei proprio da Bologna che è diventata una sorta di vostra seconda città per qualche motivo ma sì sicuramente vabbè insomma ci siamo sempre passati tutti i tour abbiamo sempre toccato questo posto adesso forse da quando lavoriamo con Estragon sicuramente forse ancora un po' di più nel senso che tutte le volte che c'è un'occasione c'è una situazione interessante dove 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 poter andare ad inserire gli Africa eh l'estragon l'agenzia lo fa e noi siamo ben contenti di venirci perché è sempre una piazza molto interessante dove la gente apprezza e anche grazie a persone come te a programma come il tuo la gente conosce ed è stata educata insomma a questo genere tanta roba una l'estate dei vostri trent'anni trent'anni di Africa United ci siamo incontrati parecchio negli ultimi tempi Ferrara bene Cassime poi Bologna oggi vi vedo rilassatissimi portare in giro questi concerti con brani anche antichi diciamo con un po' una una suma del vostro repertorio sì esatto nel senso che visto che quest'anno ricorre il nostro trentennale diciamo abbiamo montato un concerto che eh chiaramente ancora diciamo rossatura principale è quella dell'ultimo disco che è uscito nel 2010 l'anno scorso che è roots però eh al suo interno racconta vuole anche un po' raccontare la storia di questi quattordici dischi degli Africa in questi trent'anni quindi una roba che racchiude un po' tutto il repertorio pesca anche robe molto vecchie robe che da tempo non facevamo più dal vivo quindi una roba un po' celebrativa se vuoi in qualche modo e in termini di accoglienza di pubblico com'è andata quest'estate? Guarda devo dire l'estate è andata benissimo la gente devo dire che ha apprezzato tantissimo ha apprezzato anche questa cosa che dicevo prima il fatto di sentire dei pezzi che da molto non sentiva e quindi è stato una è stata bellissima anche a livello di affluenza molto molto eh interessante poi non so non so se hai avuto modo al sunscish magari tu eri impegnato comunque noi eravamo un po' preoccupati dell'orario che chiaramente quando suoni con tutta la famiglia Marley chiaramente non puoi pretendere di suonare all'ora che vuoi insomma suonare alle nove a Benicassim eravamo un po' preoccupati di quella cosa lì ma comunque dieci minuti dopo l'inizio del concerto c'era già la 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 il parterre completamente imballato di gente anche perché poi in occasioni come queste il duro lavoro è quello di aprire sono capaci tutti di uscire a 12 e mezza certo 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 noi infatti però la gente ha dimostrato ancora una volta di apprezzare poi abbiamo visto anche tutti i social network e tutto quanto la gente ha veramente apprezzato che gli Africa fossero lì e insomma ci è sembrato di aver fatto una bella cosa tra l'altro trent'anni raccontati in questo libro molto particolare trent'anni in levare in cui vi siete anche messi a nudo in modo molto divertente e scansonato e sicuramente è uscito una cosa diversa dalla da quello che può essere una cosa auto celebrativa o celebrativa da parte di terzi una cosa molto molto vera insomma con con tante cose autentiche sì assolutamente abbiamo voluto come si dice raccontare un po' quello che succede nel backstage quello che la gente solitamente non vede che insomma prima del concerto prima di un disco esca tutta la lavorazione e anche poi insomma gli episodi più divertenti e idiotiche insomma che insomma che che viviamo solitamente quando siamo in tour è un libro come dici tu molto scorrevole secondo me nel senso perché è fatto fondamentalmente da formato da interviste siamo gli e Madalschi che raccontiamo e tra l'altro i due racconti sono scritti da due persone due scrittori diversi e quindi ci sono due focus un po' insomma che la vedono da due visioni diverse e poi nel frattempo ci sono degli interventi di persone che hanno collaborato con noi insomma hanno condiviso qualcosa e tra l'altro anche tu ti ringrazio molto per aver scritto la tua roba sugli Africa e quindi insomma 30 anni non sono pochi bisogna in qualche modo c'è un approccio di un'onestà clamorosa per esempio esce fuori che tu tu passi per un personaggio molto pigro che finché non si è messo le strette assolutamente vero 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 devo dire che l'urgenza è la cosa che mi sprona e mi fa fare a volte le cose migliori purtroppo un po' questo difetto qua però insomma alla fine importante arrivare prima della deadline insomma è chiaro che sarebbe bello fare le cose un po' più con calma. Ne abbiamo già parlato anche perché ci siamo già sentiti di recente e non c'è ancora in vista un traguardo per un nuovo disco ma sicuramente tutti i tasselli andranno al loro posto quando sarà il momento assolutamente nel sito che adesso ancora abbiamo ancora 4-5 cose da fare insomma a settembre poi vabbè diciamo che ottobre è un mese in cui ci fermiamo a novembre abbiamo intenzione di stiamo come si dice organizzando questa roba queste due date celebrative che forse potrebbero anche diventare tre una live a Trezzo D'Adda una a Roma al Circo degli Artisti e c'è una proposta dell'ultima ora per fare una roba a Bari che potrebbe essere al Demo Day una cosa così con Beppe di High Grade e quindi insomma volevamo fare come si dice dei concerti dove invitiamo degli ospiti dei personaggi dei musicisti che bene o male hanno condiviso anche se non la nostra musica i nostri momenti il nostro periodo il nostro flavor e quindi ci saranno delle persone anche al di fuori del reg nel senso ha dato la sua adesione Emanuele l'Agnelli degli After Hours piuttosto che Samuel dei Subsonica e quindi insomma stiamo cercando di mettere in piedi un cast di ospiti tra virgolette anche amici che è importante per fare queste robe qui buona io ti ringrazio del tuo tempo ma non manca molto al concerto chi sta ascoltando la luce da Fujiko in macchina o a casa esatto correte fate ancora in tempo non abbiate non abbiate dubbi insomma non abbiate rivensamenti mettetevi in macchina Africa Unite tra un po' tra una mezz'oretta forse forse meno qui alla festa dell'unità all'Estragon Summer Festival Radio Città Fujiko 103.1 tra non molto oltretutto anche il live del concerto e assai Grazie a tutti! Grazie.